Musica Qualche settimana fa Firenze Palazzo Vecchio, qualche giorno fa Roma la barcaccia di Piazza di Spagna e prima ancora i quadri di Van Gogh, quelli di Andy Warhol e altre iniziative che hanno certamente posto l'attenzione su un gruppo che sta lottando per il clima, per il futuro del nostro pianeta. Un gruppo che si chiama Ultima Generazione e qui con noi oggi in questa nuova puntata di Green Style c'è una rappresentante dell'associazione di Ultima Generazione, si chiama Carlotta Muston e le do il benvenuto. Benvenuta Carlotta. Grazie, buonasera. Buonasera a tutte. Ho riassunto un pochino gli eventi che hanno suscitato il maggiore clamore mediatico in questi ultimi mesi, ce ne sono stati anche altri che hanno creato numerose proteste, il blocco di alcune arterie principali a Roma, a Milano, nelle principali città italiane. La vostra lotta si gioca, si esprime attraverso metodi abbastanza duri, mediaticamente efficaci ma che hanno suscitato anche molte polemiche. Voi dal vostro punto di vista credete che queste polemiche, come qualcuno dice, vi stiano creando più antipatie che simpatie oppure stiano ponendo l'accento su quelli che sono i problemi del nostro pianeta, ovvero i cambiamenti climatici, l'eccesso di produzione di CO2? Ma guardi, in realtà il punto per noi non è tanto se piacciamo meno alle persone, ma piuttosto se il nostro governo è deciso a smettere di investire in combustibili fossili che ci stanno rettamente uccidendo. Siamo il sesto investitore al mondo in combustibili fossili, abbiamo investito nel 2022 41,8 miliardi di euro in sussidi ambientalmente dannosi. Parte di questi soldi potrebbero già essere reinvestiti e io sono molto spaventata del fatto che il nostro governo non si stia minimamente occupando. Per esempio c'è una siccità in corso, molte culture hanno gemmato e sono fiorite prima del tempo, stanno lottando contro condizioni atmosferiche inusuali, questo avrà un impatto diretto sulla nostra produzione agricola. Abbiamo perso circa 6 miliardi di euro l'anno scorso, quindi il punto è perché non ci stiamo occupando della crisi più grande che l'umanità abbia mai incontrato. È di oggi la notizia che la Lombardia ha deciso di non irrigare i campi per mantenere l'acqua perché c'è il rischio che non ci sia quest'estate. Di questo stiamo parlando, stiamo parlando di agricoltori che rischiano di doversi fare la guerra dell'acqua. In Francia hanno appena spento due reattori nucleari proprio per la crisi idrica che è in corso e io mi domando in questa situazione come mai il mio governo non si stia occupando di quello, solamente di quello. Io ho 33 anni e sicuramente non mi sarei mai immaginata di dover riempire di farina un'auto d'epoca o di dovermi sedere su un'autostrada. Non me lo sarei mai aspettato ma penso che sia un mio dovere etico e morale quello nel momento in cui la classe politica che ha l'obbligo, che ha l'onere, che si è presa l'impegno di occuparsi della società italiana non lo sta facendo. Dobbiamo farlo noi cittadini, almeno cerchiamo di lanciare questo grido di allarme molto forte rispetto alla gravità della situazione che per primo io e lei vivremo, i suoi figli. Io non so se lei ha dei figli. Io sono spaventatissima, ho due nipoti di 5 e 3 anni e si sta parlando di perdere entro pochi anni tantissime delle nostre risorse idriche. Abbiamo visto come sta il Po, abbiamo visto come stanno i nostri laghi. Questo significa avere una crisi dal punto di vista idrico, energetico. L'acqua ci serve anche per... L'acqua e anche la neve. Proprio oggi abbiamo parlato nei nostri G.I. del fatto che sulle montagne italiane in questo momento c'è il 40% della neve che c'era lo scorso anno. Quindi questo significa riserve idriche che stanno andando via. Ci siamo occupati ovviamente di siccità sia in questa trasmissione che nelle altre trasmissioni di approfondimento del nostro canale. Ed effettivamente il problema sembra sempre più urgente, come giustamente voi dite. C'è però questo aspetto delle forme che ha preso la vostra protesta che se da una parte vi permette di essere comunque al centro dell'attenzione mediatica e quindi di riuscire a porre i temi del clima, dei cambiamenti climatici, del futuro del pianeta al centro dell'attenzione, dall'altra lo abbiamo visto nelle immagini per esempio che sono passate prima, quelle del blocco stradale che c'è stato sul grande raccordo anulare di Roma e l'audio era silenziato, ma se si facessero sentire le parole degli automobilisti, insomma alcune erano piuttosto violente anche nei vostri confronti. Posso dire per quanto mi riguarda che sono stato anche uno dei primi a raccontare il fatto che per esempio l'assalto che ci fu al quadro di Van Gogh, uno dei primi fatti in quel senso era fatto su un quadro che era comunque protetto da un vetro, cosa di cui inizialmente i giornali non parlarono facendo pensare a un danneggiamento irreversibile delle opere d'arte. Questo è il quadro di Roma, io mi riferivo al quadro che c'era stato, se non sbaglio, in un museo di Londra, adesso non ricordo se fosse Londra. Non avete paura però che queste forme di protesta poi creino l'effetto opposto, cioè che qualcuno possa dire ah ma sono, ecco ora vediamo anche la barcazza, questi ragazzi che cosa vogliono, no non sono questi, questo è un po' il commento che sentiamo spesso in giro. Certo ma io questo credo che dipenda dall'informazione, da chi fa servizio pubblico, da chi si occupa di fare telegiornali, di scrivere testate, di scrivere editoriali, di scrivere articoli, non dipende da noi, non dipende da noi su cosa si concentrerà il dibattito, noi continuiamo a spingere perché si parli del fatto che per esempio tantissime decine di miliardi vengono presi dalle nostre tasche di cittadini e date alle multinazionali del fossile che hanno conciato l'Italia in uno stato veramente devastante e siamo senza acqua in questo momento, ci prendono 80 milioni all'anno per darli alla ricerca di gas e carbone quando dovremmo abbandonarli e si potrebbero benissimo dare a tutti quei bravi ricercatori che stanno cercando soluzioni per il risparmio dell'acqua e per salvare l'agricoltura. Noi possiamo usare il nostro corpo, rinunciare alla nostra libertà, essere disposti a prendere delle denunce, essere disposti anche a empatizzare tantissimo con le persone che blocchiamo, ma poi serve anche che l'informazione faccia il proprio lavoro e il proprio lavoro è quello proprio di parlare non dei metodi, ma caspita ma parliamo del fatto che c'è un conflitto sociale in corso e sarà sempre peggio, perché non riusciamo a parlare di questo? Ecco, noi nel nostro piccolo, come vedete, stiamo cercando di farlo. No, no, ovviamente è quello che stiamo cercando di fare qui, però parliamo del fatto che diamo più di un miliardo all'anno di infringe benefit, letteralmente a un 20 di stipendio per chi usa la macchina aziendale come privata in modo da usare più benzina anziché usare questi soldi per potenziare il trasporto pubblico al sud. Cioè, viviamo in uno stato di assurdità e le cose saranno sempre peggio, quindi sì, i nostri gesti sono assolutamente dirompenti, ma non sarebbero così dirompenti se la situazione non fosse così grave e quindi serve ovviamente anche che noi l'informazione la possiamo fare quando veniamo invitati da qualche parte, ovviamente continuare a parlare non dei metodi, ma piuttosto di quello che sta veramente accadendo, perché qua nessuno è vittima di un delirio di onnipotenza, cioè siamo singoli e cittadini, io sono una persona, sono una ragazza comune, ho 33 anni, non vorrei fare quello che faccio, ma non ho nemmeno il potere, non sono io il governo, io vorrei parlare con il Presidente Meloni. A proposito di governo, dicevo parlare con il Presidente Meloni, diciamo che c'è stata un'interlocuzione con la politica un po' conflittuale da parte vostra, anche quando c'è stato l'assalto al Senato, prima abbiamo visto Nardella, il sindaco di Firenze, che insomma non l'ha presa proprio benissimo, la vostra operazione a Palazzo Vecchio, c'è però da dire che il ritardo della politica non è colpa degli attuali governanti, ma di decenni, se non un paio di secoli, dallo scopo della rivoluzione industriale alla fine del Settecento in Inghilterra, un ritardo fortissimo rispetto a quelle che sono le problematiche dell'inquinamento, del riscaldamento provocato dall'uomo. Ecco, voi che cosa chiedete nello specifico, facciamo finta che adesso Giorgia Meloni sia qui all'ascolto, magari veramente ci sta seguendo, che cosa chiedete al governo italiano? Di fermare immediatamente tutti i sussidi ai combustibili fossili, fermarli immediatamente significa avere un piano per fermarli, perché ovviamente c'è una complessità molto alta nei sussidi ambientalmente dannosi che, ricordo, ammontano al 41,8 miliardi di euro per quanto riguarda il 2022, ma ci sono già dei soldi che possono essere riallocati, l'ho fatto prima l'esempio degli 80 milioni all'anno che vengono dati alla ricerca per gas e carbone, quei soldi possono essere reinvestiti in altro, in altro che ci permetta di prepararci veramente a quello che sta accadendo, già adesso non è più nemmeno una questione di futuro, io quindi, io come singola cittadina chiedo al mio governo, che dovrebbe rappresentarmi, di smettere di investire nella morte delle mie nipoti, perché continuare a investire in combustibili fossili significa continuare ad aumentare le emissioni, significa andare verso una siccità sempre più gravosa, andare verso un disastro veramente agricolo. Carlo, te la posso interrompere un attimo, perché le voglio fare un'obiezione, a parte che abbiamo fatto, ecco, ha visto virtualmente Giorgia Meloni era all'ascolto, almeno nelle immagini, ma è un'obiezione che viene fatta spesso, se anche ammettiamo che il governo italiano seguisse i vostri consigli, le vostre proposte, i vostri suggerimenti, e facesse quello che lei sta chiedendo, restano tutti quanti gli altri governi del mondo, io ho visto, pubblicate anche sul web e da molti giornali, delle piantine, per esempio, relative alla scelta dell'Unione Europea di bloccare entro il 2035 i motori a combustione, e si faceva vedere come in realtà l'Unione Europea fosse una piccola macchietta sul mappamondo, e che quindi anche tutta l'Unione Europea che blocca i motori a combustione, in realtà non serva a nulla per salvare il pianeta. Voi come rispondete a questa possibile obiezione? Beh, prima di tutto rispondo che io sono una cittadina italiana, e quindi quantomeno mi interfaccio prima di tutto con il governo italiano, perché il governo italiano, che teoricamente in una democrazia dovrebbe quantomeno, anche se non mi rappresenta, dovrebbe quantomeno occuparsi della salute pubblica collettiva. Il secondo punto è che, secondo questo ragionamento, nessuno inizierebbe mai a fare niente, e questo è un ragionamento che per me non ha, cioè è proprio una delle cose che ti insegnano gli elementari, no? Che non è che non fai una cosa giusta finché non lo fanno gli altri, ti insegnano gli elementari che una cosa giusta la cominci a fare, anzi, proprio perché poi probabilmente crei il modello e l'esempio. Il terzo punto è che dobbiamo anche smettere di nasconderci dietro questa cosa che ha l'Europa poverina e piccolina. L'Europa è il principale mercato della Cina, cioè non possiamo fare finta che siamo buoni in una macchia di persone brutte e cattive. Non è così, non è così, e bisogna cominciare a dare un segno di inversione di tendenza, e cominciare ad agire lì dove si può agire. Cioè non è che se c'è un incendio in una casa, uno dice, ah beh no, però aspetto di capire di chi è colpa, aspetto di vedere se il mio vicino di casa prova a spegnerlo, ma no, ti metti lì e provi a spegnerlo, e provi ad agire lì dove puoi agire. Questo a me sembra buon senso di base, mi spaventa molto, mi terrorizza il fatto che i nostri governanti non arrivino a fare questo semplice ragionamento. Ecco, mi sembra molto efficace l'esempio che ha fatto, soprattutto quello che è l'incendio. Senta, un'altra domanda, perché è vero che il governo italiano e gli altri governi europei e mondiali sono in ritardo su questi temi, ma è anche vero che il governo italiano in realtà di voi si è occupato, cioè si è occupato per esempio per assegnare una sorveglianza speciale ad alcuni vostri attivisti che si erano macchiati di quelle azioni che abbiamo visto prima in alcune delle immagini, e adesso si sta occupando anche di una possibile, soprattutto la parte leghista, di alcuni possibili decreti che andrebbero a colpire in maniera più forte le azioni che voi fate. È così? Risulta anche a voi che ci sia questo attenzionamento particolare? Beh sì, è in corso, beh appunto per vedere le priorità del nostro governo c'è una siccità in corso, il po' penso non sia così basso da più di 200 anni, c'è una crisi agricola che stiamo per affrontare, e il nostro governo anziché discutere delle misure da prendere per contrastare questa cosa e cominciare a ridurre le nostre emissioni, cosa fa? Perde tempo pensando di punire noi aumentando i reati di danneggiamento. Ma il punto è che qua nessuno di noi si sta divertendo a fare quello che sta facendo, e non è che con queste misure ripressive e intimidatorie noi smetteremo di farlo, perché qua non è una questione di la mia causa o la mia fissa, qua è una cosa